questo rumore ho brutte sensazioni sinceramente questo rumore qui non mi fa stare molto bene bella domanda anche perché questo qui era il classico rumore di quei coglioni che fanno strisciare con la motosega merdosa mi devo buttare qua si magari se mi fai girare sono contento allora ragazzi nel caso ci fossero questi figli di troia io tirerei una bella granata e infatti guarda lì quel pezzo di merda vieni qua troione una due ce ne sono due ragazzi ce ne sono fottutamente due ok uno è andato uno è andato molto bene molto bene giù oddio raga sono andati tutti e due sono andati tutti e due raga raga sono andati tutti e due è stato bellissimo è una sensazione bellissima figli di troia non ho mai usato le granate in tutto il gioco figlio di troia qualcosa c'è ottimo questo mi faceva molto comodo ok apri sta merda e direi che si può proseguire porca puttana cosa succede se puede e vacca merda che palle sto qui che cazzo devo fa scappare scappiamo no dietro di me ciao come te ne nascondono bene le stronzate andiamo no raga non ci credo la cazzo l'avevo bruciata l'avevo bruciata c'è non ci credo c'è di nuovo c'è di nuovo quella puttana oh un checkpoint ragazzi mio un checkpoint non ti sto chiedendo molto eh un check fottuto point qua c'è un libretto sempre dalla polizia di Ari Sebasti Castellanos ho visto amici colleghi morire prima d'ora fa parte del lavoro che ho scelto non è mai facile ma niente può essere paragonato al dolore della perdita del proprio figlio morirei un milione di volte per impedirlo se fosse possibile mi sono sentito così impotente quando hanno calato quella piccola barra sottoterra il dolore è insopportabile so che non dovrei ma bere è l'unica cosa che mi ha permesso di dormire nelle ultime settimane sono preoccupato per me Maira la perdita l'ha colpita duramente il modo in cui la sta affrontando è inquietante vuole restare da sola sveglia tutta la notte dice di voler lavorare per non pensare alla tragedia ma sembra volersi richiudere in un mondo tutto suo so cosa succede quando una coppia perde un bambino e spero di essere abbastanza forte per evitarlo come al solito mi spaventa ogni volta sto cazzo di specchio guarda so benissimo che si deve rompere ma ogni volta mi fa caccare addosso la mia amica qua sta bene? ha dimenticato qualcosa? tua madre dove cazzo sei? ma vaffanculo puttanellas ok vediamo se è il momento di dare il colpo definitivo a sta gran troia guardate quella puttana guardatela 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 sta troia del cazzo che cazzo devo fare porca troia apri qua merda sta facendo un buco raga sta facendo un buco cristo cristo sebastian dai niente 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 raga niente niente cristo dai scappa sebi niente 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 dove cazzo devo andare porca puttana dai sebastian farla figa gira da qua sebastian infilati porca troia madonna sta puttana guarda che roba guarda che troia schifida con ste cazzo di braccia te le taglio te le taglio tu guarda sappi che prendo le tue cazzo di capelli vaffanculo guarda ci faccio una scuola per il cesso se esistono esistono le scuola per il cesso ma che cazzo ne sono io la invento io con i tuoi capelli da merda con le tue zampine del cazzo non ci raspo il culo ma ve lo giuro ragazzi questo qui è veramente quella la cosa che che odio di più odio di più porca puttana perché guarda non la sopporto sta qui non la sopporto e mo fa stare malissimo mi fa stare quindi adesso che cazzo devo fare devo sparare a sta merda sembra di si oh dio dio sebastian corriamo niente cos'altro vuoi fare si corre si corre alla grande diobono l'avevo vista la leva sebastian guardi qua scusi eh se non le dispiace dai sebastian non le dispiace dai forza forza scusate se sto zitto raga ma no 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 ok ci va ok apri apri sebastian dai che secondo me ci siamo quasi potremmo quasi esserci sebastian porca troia anche no allora fammi vedere un po fammi pensare no 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 porca troia queste trappole da merda no 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 adesso non adesso puttanella non adesso cazzo scusate ragazzi se sto zitto ma chi se ne frega c'è capite anche voi che è un attimo cacarsini addosso qua ok fanculo ok sta troia sta soffrendo veramente tanto per quanto mi riguarda vai qua vai qua ma vaffanculo anche ste cazzo di trappole dai sebastian dai ti prego ti prego ti prego ti prego non voglio guardare non voglio saperne niente non voglio saperne niente dimmi che ce l'abbiamo fatta e basta merda dai sebi non mollare è qua è qua è qua ragazzi è qua abbiamo aperto una porta prima abbiamo aperto una fottuta porta ci sei sebi si cazzo si si porca putta ma vaffanculo no 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 sebi non mi muore cioè ho fatto quello che devo fare vero guardala quella faccia non sembrava che c'è non sembrava una faccia da mostro sinceramente oddio ti prego dimmi che gliele trancio si cazzo adesso mi ci gratto il culo con queste ce l'abbiamo fatta stavolta dovrebbe essere andata stavolta dovrebbe essere andata veramente bravo sebi è stata dura mamma mia saranno 15 minuti che provo a sconfiggere sta troia adesso non è ancora finita pure te che ti credi di essere? ruvik io lo so chi sei il cubo di ruvik diciamo quando dovremmo sconfiggere sto qua ciò che temi sopporterai il peso di ciò che ti costringerò a fare joseph non ce l'ha fatta ah peccato ti abbiano coinvolto in ogni caso di te ormai posso fare ciò che voglio porca cosa hai fatto? me l'hai buttato dal culo? se mi sembra tranquillo noo basta cazzo no madonna ma di nuovo sta casa non posso crederci Questa volta me ne foto, vado dritto per dritto Che cazzo succede qua dentro? Cosa sta succedendo? Madonna ragazzi, che episodio I texture che si caricano dopo Doc Che diavolo ha intenzione di fare? Provo a salvarci Sono serio? A me sembra che lei stia creando un altro mostro Non ho tempo per questo detective Nemmeno io Leslie è già stato qui Ed è tornato È sopravvissuto al legame con Rubic L'unico che ce l'abbia fatta, a quanto ne so Ottimo E questo che cosa c'entra con noi? È la via d'uscita detective La sola e unica Nooo, da Ma povero Leslie Non c'entra con lui Non c'entra con lui Non c'entra con lui Non c'entra con lui Io funziona Psicopatico di merda Povero Leslie Mi sta andando in pappa al cervello Uh, dai Porca puttana Madonna Madonna che merda Che fa questo Ecco perché Ecco perché Quello ridò un masso di merda Oh porca puttana Vaffanculo Eh, so che sei lì Ascoltami Cazzo Boh, io entro Chi è? È sto tipo qua? Sì Dimmi Rubik deve essere molto arrabbiato ora Non pensavo che avrebbe mai rotto un terminale STEM Cosa? STEM? Deve esserci vicino se sta tagliando col passato Gli resta solo il contatto con il presente Con lo STEM originale All'ospedale L'ospedale? Il Beacon Mental Hospital? Rubik è là Aspetta lui Se qualcuno non arriva prima di lui Non ci sarà scampo per nessuna Ok Tutto chiaro, no? No, per niente Porca Pozza di sangue fresco, sa? È il tuo mestro, cara Quindi Non usati Le mutande, per favore Prima di parlare Qua c'è la macchina Porca puttana Ma Cristo mi ha visto Oh, ma no Perché ho l'impressione che tipo dovrò sconfiggerlo Tra pochissimo Cioè, questo è un capitolo incredibile Non mi aspettavo così Poco Porca merda Cristo Vediamo di qua Eccolo che arriva, ragazzi Si corre Si corre Cristo santo Corri Save Porca puttana Qua mi ha dato Una bella botta Una bella schienata Mica male Mica male Ok Si sa che dobbiamo sconfiggerlo Si sa quella merda Che ho visto spuntare Porca puttana Ok Forse ho trovato un bug, ragazzi Non ci arriva qua Ok Si ci arriva Perfetto Ha fatto anche molto male Devo dire Oddio Oddio, raga Dai che sta per morire Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Cazzo Al primo tentativo Al primo tentativo Cazzo Ce l'ho fatta Ma andiamo Eh, grazie Per l'ascensore Porca puttana Si è stati bravissimi, raga Qua si è stati veramente bravi Figlio di troia Dammi un sacco Di questa merda verde Dammi un sacco Grande Ok Direi che si può proseguire Entriamo qui dentro Probabilmente sarà la fine del capitolo Vado che Cioè Abbiamo Abbiamo affrontato di tutto qua In questo capitolo Perfetto È finito anche il capitolo, ragazzi Purtroppo si è spenta la telecamera Purtroppo si è spenta la telecamera Purtroppo si è spenta la telecamera